Il riferimento al servizio che qualche giorno fa avete mandato sul parco di Sant'Orso, come amministrazione comunale abbiamo cercato di intervenire, anzi di programmare degli interventi puntuali su quel parco che rendono anche più fruibile quella zona. In questi giorni sono già svolte le gare, abbiamo già aperto le buste perché abbiamo finanziato il rinnovo degli arredi pubblici per circa 250 mila euro, quindi i soldi ci sono. Ovviamente aspetteremo di iniziare i lavori dopo l'emergenza neve perché adesso le priorità sono anche altre, non sono solo quelle di sistemare i giardini e il verde pubblico e quindi subito dopo l'emergenza neve ricominceranno questi lavori di abbellimento delle zone verde, della città di Fano, non solo di Sant'Orso e interessano diverse zone della città per cui vorrei dire in merito che il problema era noto e di da tanto tempo, però abbiamo già previsto i soldi, finanziamenti, fatto la gara, individuato la ditta per sistemare quella situazione.